Che cosa si può fare di concreto per contrastare il cambiamento climatico? Un'azione concreta? Beh, le azioni concrete quotidiane ovviamente della vita di tutti i giorni essere più responsabili dello smaltimento dei rifiuti comunque essere responsabili della differenziazione della plastica, della carta nel piccolo, poi ovviamente nel grande ci sono tutte delle altre azioni che si possono compiere ma nel piccolo sono prevalentemente queste cose Un'altra azione che ci viene in mente? Penso che basti un minimo di consapevolezza per il mondo in cui viviamo se ognuno facesse attenzione ai piccoli gesti secondo me tutto andrebbe meglio Un gesto concreto? Evitare di buttare le sigarette a terra piuttosto che altri rifiuti che ce ne sono veramente tanti, specialmente sigarette C'è una sensibilità nuova tra voi ragazzi negli ultimi tempi su queste questioni dell'ambientalismo? Beh, di sicuro c'è una maggiore sensibilizzazione da parte anche magari delle figure di accompagnamento comunque figure più rilevanti diciamo però comunque Insegnanti Sì, scusi, insegnanti Poi ovviamente tra i giovani vi è sempre quella, diciamo comunemente tra la compagnia, la persona che magari sgrida il proprio amico dicendo ma no, la sigaretta appunto non ha terra o comunque queste azioni che vengono appunto sgridate tra le compagnie di amici quindi secondo me anche questo è un altro tipo di sensibilizzazione E Greta Thunberg ha portato un'aria nuova? Secondo me ha semplicemente detto tutto ciò che noi vorremmo dire ma che purtroppo non riusciamo non so, lei per una volta si è fatta sentire rispeccando i pensieri di tutti ma non solo di noi giovani, secondo me anche di alcuni adulti Alla prossima